Brutto momento per la principessa Charlene di Monaco. La compagna del principe Alberto è bloccata ormai da tempo in Sudafrica per motivi di salute. Lontano dalla sua famiglia, in attesa di far ritorno nel principato, ora è stata colpita da un lutto e scomparso il suo adorato cagnolino Monte. Charlene era legatissima al suo chihuahua. La principessa ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che la vede con il suo amato cane tra le braccia. Nella didascalia scrive Il mio piccolo angelo è morto la notte scorsa, è stato investito, mi mancherai tanto, riposo in pace, ha scritto.